Papa Francesco torna a parlare di Covid e comunicazione. Lo fa con un messaggio per la conferenza annuale della Catholic Press Association che si svolge da oggi in modalità virtuale al 2 luglio negli Stati Uniti. Una riflessione ispirata dal tema Together While Apart, insieme ma distanti, che investe tutti i media, non solo cattolici. Accanto al pensiero per le tante vittime registrate dalla pandemia nell'America del Nord, il Papa richiama la missione dei mezzi di comunicazione, diventata indispensabile negli ultimi mesi. Tenere unite le persone, accorciare le distanze e fornire informazioni essenziali, aprendo cuori e menti alla verità. Accanto al ricordo del primo periodico cattolico pubblicato dalla diocesi di Charleston nel 1822, le indicazioni per continuare ad offrire un ideale di unità nella diversità. Spunti importanti per l'America ancora ferita dai conflitti interraziali e piegata dall'emergenza Covid. In un'epoca segnata da polarizzazioni che non risparmiano neanche la comunità cattolica, Francesco invita a costruire punti, difendere la vita e abbattere i muri visibili e invisibili che impediscono il dialogo sincero tra gruppi e persone. C'è bisogno di media corretti nei giudizi, imparziali nel presentare i fatti impegnati per la giustizia e la concordia sociale. Sollecita il Papa che chiede comunicatori, coerenza, indipendenza, passione per sconfiggere il razzismo e indifferenza. E poi chiarezza nel rivendicare la verità e la dignità umana. E poi chiarezza nel rivendicare il razzismo e il razzismo e il razzismo e il razzismo e il razzismo.